Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con un nuovo episodio della nostra Roma sulla Master League, signori, episodio numero 44 se non sbaglio, si Allora signori, ovviamente io sto sempre registrando in ravida successione, quindi non ho potuto leggere i vostri commenti ma li sto recuperando piano piano e nel video di venerdì poi risponderò se c'è cosa a cui rispondere Detto questo vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto e vi ricordo di iscrivervi al canale perché anche se abbiamo raggiunto i 2000 iscritti dobbiamo puntare sempre più in alto signori e ho bisogno sempre del vostro aiuto e io vi ringrazio in anticipo per tutto questo Detto questo veniamo da una brutta sconfitta contro il Manchester venuta negli ultimi minuti ma una grande prestazione del nostro nuovo CR7 che non si chiama CR7 ma si chiara SM perché lui si chiama SMAU e quindi sarà SM7 Ho anche SU7, SU7 è più simpatico, SU7, SU7, SMAU! Mi fa troppo ridere, è stato all'acquisto di tutta la serie praticamente, all'acquisto di tutta la serie Detto questo ci stiamo perdendo troppo in chiacchiere, io volevo farvi solamente un aggiornamento sulla classifica Cannonieri alla fine del giorno d'andata in cui abbiamo il nostro Enrico 13 gol, quinto posto Poi abbiamo Babangida con 7 e Stojkavic con 3 Classifica assist abbiamo primo Babangida con 11, Harry e Vorlanden con 4, non chiedermi quando è che Vorlanden ha fatto assist perché non me lo ricordo Stojkavic con 3 e finisce lì, quindi questa era la nostra un attimino situazione In serie B invece abbiamo il Parma con 28 punti che se la gioca con Amsterdam e Monaco Ah, l'Ajax guarda è risalita, l'anno scorso faceva schifo, il Liverpool sta facendo schifo invece quest'anno E il Rio de Janeiro è quinto, un grande giro di situazioni in serie B Detto questo signori, noi non abbiamo punti per fare mercato ma anche quando non abbiamo intenzione di fare altro mercato Vi faccio nuovamente vedere la schermata dei salvataggi perché forse non avevo salvato dopo la brutta sconfitta contro il Manchester Quindi salviamo contemporaneamente assieme, infatti turno 15 Non avevamo salvato e procediamo al prossimo incontro signori Procediamo al prossimo incontro che sarà il primo del girone di ritorno, se non sbaglio contro il Bayer Leverkusen Partita che all'annata abbiamo vinto, riusciremo a farlo anche adesso? Non lo so Lui sta caricando, lui ormai carica a prescindere, questa cosa mi fa molto piacere, mi fa molto piacere Così ci evita un sacco di rotture di scatole, dobbiamo semplicemente cambiare 4 cretinate e neanche più di tanto L'unico che deve entrare in campo è Semau E poi abbiamo Ivanov, Valery, Turam, Jerny e Cafu, Totti e Varlanden sulla tre quarti, Stacavic al centrocampo, Arry centrale, Semau e Babangita Ok, ci siamo signori, abbiamo giocatori che rischiano di saltare turni, forse Ivanov, Valery e Babangita Speriamo di non prendere queste munizioni così dovremmo un attimino continuare a giocare con la formazione titolare Che finalmente riusciamo a giocare con la formazione titolare, signori, che lo scorso video se non sbaglio mancava Totti Adesso ci sono tutti, signori, ci sono tutti Quindi cerchiamo di ripartire bene, cerchiamo di rimetterci subito sul binario quello giusto, signori E portiamoci a casa i tre punti come è stato all'andata contro il Leverkusen Questi stanno a vincere tutti i rimballi, mannaggia loro Oh, grandissimo, Forland gli ha dato una spallata che se la ricorderà per tutta la vita Semau, Semau, decide di partire lui, Semau, 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 Semau Oh, stavo cercando l'1-2 con Harry Mannaggia di una paletta ambriaca Sappiate che un'esclamazione che dico molto è paletta ambriaca Sì, non so perché, ma è nata all'inizio del canale e me la sto portando sempre dietro Quindi se mi sentite dire, mannaggia paletta ambriaca, non sono pazzo Tranquilli, è un'esclamazione che mi porto dietro da anni Giornì, giornì per Totti, 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 Totti per Stoicavic Stoicavic, Stoicavic, Stoicavic Stoicavic che si è andato a infilare in un pertugio troppo pertugioso No, no E vabbè, questa è la falla per giustamente Che cazzo gli passi la falla a quello che stava ancora a terra Cercando di capire che cosa gli era successo Da cosa era stato investito Attenzione, Semao, Semao, Semao che deve dare continuità alla bella prestazione contro il Manchester Però il nostro SM7, il nostro SM7 vanno a rubare le sue maglie adesso Vanno a rubare le sue maglie e i suoi bastoni per selfie Diventato un nuovo business, un nuovo business romano, signori Se non lo trovate in campo lo trovate al Colosseo che vende un selfie Va bene Mi partano le cretinate, signori Ma Semao, lo ripeto, è l'acquisto dell'anno L'acquisto di tutta la stagione L'acquisto di tutta la stagione Riesci a alzar Mannaggia, ma guarda Sto a Leverkusen, come se stanno... Attenzione, partito Semao Attenzione, partito Semao Semao, 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 Semao L'ha rispinta No, vabbè, Harry, ma che cazzo rola... Io già stavo a festeggiare, Harry Harry, ma che cazzo rola fai? Ma porca, stavamo già 1-0, signori Nella mia mente stavamo già 1-0 Attenzione, Harry però ricopre subito il pallone E la passa a Semao, 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 Semao Questa filata di Semao Ma ha detto, il nostro CR7 Il nostro SM7 Il nostro SM7 Ai, 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 ai Che l'ho vista brutta Questi provano ad allargarla sulla fascia Ma non ci riescono, ma non ci riescono Ma non ci riescono Attenzione, Valerie, Valerie, Valerie Cerca Totti Totti che cercano Mamma mia, che passaggio E lì non c'è più nessuno E giustamente Semao, pensaci tu Semao Semao, pensaci tu Siamo nelle tue mani, Semao Siamo nelle tue mani Siamo a che Non riusciamo più a essere Cioè abbiamo Ci siamo mangiati due gol Fatti praticamente Due gol fatti E la legge del calcio è questa Signore, la legge del calcio Purtroppo è questa Gol sbagliato Gol subito Abbiamo preso una traversa Con Henry Che io dico che Ma porca miseria Ma con quanto Quanto è grande la porta Tra l'altro era pure a porta vuota Perché il portiere era stato battuto Con quanto è No, lui è riuscito a prendere la traversa Vorlanden 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 per il Bamba Per il Bamba Che non è più incisivo Signore Il Bamba sente la pressione di Semao Il Bamba sente la pressione di Semao E non è più incisivo Che una volta Attenzione Sto ai Cavic Sto ai Cavic Sempre più vivo No, Sto ai Cavic mio Stavo a dire sempre più nel vivo del gioco E mi fai sta cacata terribile Cafu Grandissimo era il Cafu Il recupero Il Bamba Il Bamba Il Bamba Si crea il primo spazio Il Bamba Poi non riesce a mettere le coordinate giuste per correre Il Bamba Il Bamba Il Bamba Il Bamba Sto cercando una percussione delle sue Che bello lo stadio qui Del Evergusen Col santuario alle spalle Riusciamo a evitare di Ok Totti 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 Per Semao 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 che si è fatto chiudere Allora stiamo a vedere Stoekavich 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 Grandissimo Valery Che cerca ancora Semao Che si crea lo spazio Semao Ma già te l'avevo visto Fanno quel passettino in più E poi non riesci più completamente Ad avere il vantaggio che avevi No 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 Attenzione a questi brutti falli Senni 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 Che cerca Semao Che si gira e parte Semao alle praterie Semao 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 No 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 Che cazzo lo deve Batti e ribatti Vorlanden Per il Bamba Per il Bamba Che ci credo ancora Stoekavich Stoekavich Si è creato lo spazio Stoekavich Inguadra la porta Piano piano Mannaggia Deve essere più incisivo Sto tiro Porca Ancora Ancora Leverkusen Leverkusen che ha il Dentro avvenenato Della partita D'andata All'esordio La sconfitta La sconfitta All'esordio Evitiamo di fare cagate Ecco Appunto Ho chiesto di evitare Di fare cagate Meno male che le fanno da solo Con chi stiamo a perdere Porca miseria Lo vedete con chi stiamo a perdere Lo vedete con chi stiamo a perdere Giorni Giorni Che cerca Semau No Mi stava partendo Semau Sulla fascia Non mi puoi Stoppare un Semau Che ha imparato a correre Signori Non mi puoi Stoppare un Semau Selvagio Ma qui Abbiamo già perso il pallone Patiente Nemmeno nel tempo Di iniziare la partita Ci siamo già giocati il pallone Bene Bene Attenzione al calcio Al cross Stoekavic Niente Stoekavic oggi è un poco spento Però attenzione Cafur Ricopre un gran pallone Per il Bamba Che ha le praterie Se ne andate il Bamba Bambam 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 Dimostranci Che sei ancora tu Il migliore esterno Bambam Bambam È lui signori Il migliore esterno È iniziata la faida Fra lui e Semau Va bene così Ci piace Ci piace Il Bamba Che è riuscito a rientrare E non si sa come Ha trovato di destro Di destro Piano piano Il pareggio 1 a 1 Dopo 3 minuti Va bene così Va bene così Signori Va bene così Semau non ci sta però Semau Lotta 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 interna Signori Lotta interna Fra Semau e il Bamba Attenzione È ripartito anche Semau 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 Vuole fare vedere Semau Che ha imparato a giocare a calcio Semau 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 Assist Di Semau E 2-1 Della Roma Thierry Henry Torna al gol Dopo il gol Vittoria contro il Valenza Grande Semau La sterza E Henry Aveva centrato il portiere Henry ha dei problemi Di convergenza Comunque Perché prima a porta vuota Ha beccato la traversa Adesso a porta A porta quasi vuota Ha beccato il portiere Per fortuna che nel rimpallo La palla è finita dentro Perché se no Stavamo qui A insultare Henry malamente Attenzione All'Evergiusen Che non ci sta Dopo un primo tempo Buono Dell'Evergiusen La Roma è uscita Signori La Roma ha trovato Un 1-2 Velocissimo Con Babangita Henry Attenzione Stokavic Grandissimo Il recupero di palla Di Vorlangen Che cerca ancora Stokavic Che cermannaggia Devo dargli in profondità Ho sbagliato Ho sbagliato Il movimento Attenzione Ancora Henry Si fa fregare il pallone Tiene Henry Si è fatto fregare il pallone Grandissime Recupero di Totti Ancora Henry Henry Che è un po' solo Però vede Semau sulla fascia Che la prende benissimo Semau Semau È partito lui Semau Prova del passaggio Prova del passaggio Prova del passaggio Tirarla in porta Babangita Babangita per Totti Che perde il pallone Franceschi Un po' fuori dai ritmi Francesco Rimessa l'oro Un po' fuori Un po' fuori fase Un po' fuori fase Il nostro Franceschino Totti Che deve un attimino Riordinare le idee Attenzione Niente Attenzione Loro Hanno alzato il pressing Attenzione Loro Che hanno alzato il pressing Attenzione I giorni Parte il calcio d'angolo Turam Devastante Attenzione Però loro Ancora Il cross Il pallone Sfortuna messo fuori La teniamo in campo Grandissimo Semau Con un gran colpo di testa La tiene in campo E proprio Non riesce Grandissimo Con un doppio intervento Riparte la Roma Proprio con Semau 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 Se ne va Semau 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 Se ne va Il nostro SM7 Il nostro SM7 Vuole il terzo gol In campionato E lo trova Semau Trova il terzo gol In campionato Personale E aumenta La faida Con Babangida Guardatelo lì In mezzo A 8 difensori Forse c'era tutta la squadra Del Bayer Leverkusen Che difendeva Su Semau Forse erano entrati Puri quelli dalla panchina Per cercare di fermarlo Ma lui Ha trovato il gol Del 3 a 1 Chiudendo la partita Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Quindi vorremmo, vorrei cercare di evitare che si ripetesse una cosa del genere. Stoikavic, Stoikavic, annaggia Stoikavic mio, mannaggia Stoikavic mio. Qualcuno lo ferma? Non lo so, se vi va però, signori, se vi va, se vi va lo potremmo fermare. È entrato Ballak, Ballak, attenzione, calcio d'angolo. Harry, no, va bene, rimesso al fondo, hanno sbagliato loro. Ma non ero nazionata goal, ma che cazzo mi fa vedere il replay, dai, Cafu, Cafu, Cafu. Cafu, cerca il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba, cerca Stoikavic, 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 uno... No, Stoikavic mio, che cazzo non lo fai? Abbiamo fatto l'intervento, era buona. Valery, Valery, Valery con calma, Valery, Turam, 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 eccetera, con calma. Cercato Stoikavic che riesce a girarsi, Stoikavic, Stoikavic, cerca Harry ma non lo trova. Valery, Valery, in percursione offensiva, Valery per Stoikavic, 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 per Semau, che inguata la porta, Semau! Cazzo non l'ha fatta Semau, incredibile, gli è girata troppa, il ragazzo sta imparando a giocare a calcio, il ragazzo finalmente sta imparando a giocare a calcio e questa è una cosa che a noi fa molto piacere perché finalmente ci fa capire che i soldi sono stati ben spesi. Attenzione, Semau, 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 Semau. Si è accentrato, Semau, Semau, si è accentrato, no, dovevo tirare. Mi stavo mettendo in posizione per tirare, signori. Vorlanden, 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 oh, Stoikavic, Stoikavic è un po' in ombra. Stoikavic che sperava di dettare leggi su Semau e invece Semau si è presa la mano con tutto il braccio praticamente, si è inventato subito Semau. Dopo le prime partite Stokovic era contento Perché diceva Io ora sto imparando a giocare a calcio Questo neanche sa come funziona un campo di calcio Non sarò più io quello a essere criticato E invece Stokovic, signori, in due partite ha fatto più gol Scusatemi, Semau in due partite ha fatto più gol di Stokovic Quindi parliamone Attenzione, Cafu, 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 Cafu Non guarda Babangita, non guarda Babangita Ma vede Henry, 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 Henry Che cerca Jorni Jorni per Semau Semau che se ne va con un gran dribbling Semau, 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 Semau Semau, Semau, Semau No Lo so signori, corlo troppo, lo so Me l'avete scritto nei commenti Sto troppo col tasto ammaccato della velocità Lo so, lo so, lo so perfettamente Attenzione, Henry, da solo Cerca il Bamba, che è riuscito a ripartire Il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba Il Bamba, per Henry, che inguata la porta No, vabbè, dai, Henry Ma che cazzo di problemi c'hai No, ma era bellissimo Era bellissimo Era un ennesimo assist di Babangita Ma che cazzo di problemi c'hai Fratello Ma io mi compro Ronaldo, signori Scusatemi Io, 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 no Mamma mia, questi stanno a segnare Questi stanno a segnare Totti, 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 devi passare Attenzione, parla per Semau No, mi fa No, no Mi stava partendo Semau Mi stava partendo Semau Comunque Tanta roba, signori Io lo prendo tanto in giro, questo Semau Ma il ragazzo merita In tutto questo La Lazio batte il Real Madrid Buono Per noi va bene Perché il Real era sopra di noi L'Inter batte il Chelsea Ok Intanto 10 tiri a 11 Hanno fatto più tiri di noi Ma abbiamo vinto noi Dortmund perde 5-0 Contro il Bayern di Monaco Juventus e Buenos Aires Pareggiano 2-2 Ok Il Leeds perde 3-2 Contro il Barcellona Il Milan perde 2-0 Contro il Marsiglia Cazzo, il Marsiglia però Sta spingi E il Manchester Perde 2-0 Contro il Valencia Ci ha rubato la partita Manchester di merda Allora Cafu per Babangida Henry E Totti per Semau Signori Io non ho che Non ho che altro aggiungere Non ho che altro aggiungere Un Semau in più Un Semau in più Va bene così A noi fa piacere Andiamo a 29 punti 10 punticini Portati a casa E qui ora diventa difficile Qui ora diventa difficile Signori Perché noi i punti ce li abbiamo Ma abbiamo anche una squadra Che è bella tosta Quindi Non saprei come spenderli Sti soldi signori Decisamente non saprei come spenderli Potremmo andare a puntare Davids Per avere un mediana Però Vorlanden Gioca abbastanza bene Cioè mi sembra Un peccato Le pare Vorlanden Non lo so Datemi dei consigli Nei commenti Signori Detto questo Vi ringrazio per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i giocatori Per il supporto Noi ci siamo sempre qui Sul canale Per un prossimo appuntamento In tutto questo Siamo primi A 31 punti Con due punti di vantaggio Sulla Lazio Signori Ce la giochiamo con la Lazio E al Manchester E al Madrid Scusatemi Sono ringoglionito Bella raga Ciao Ciao